Musica Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Tieni il metro? Sì. I metri. Dobbiamo mantenerle distanze, anche se siamo gialli, anche se i ricoveri calano, calano anche le terapie intensive, ma l'RT sale leggermente. No, parliamo di questo. Ogni volta. Facciamo così, poi dopo lo togliamo. Questo è il nostro rituale che per ora porta bene. Benvenuto a Paolo Cova del PD. Buonasera a lei, a voi, a tutte le telespettatrici e telespettatori. E benvenuto anche a Gianmarco Senna, Lega. Buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie dell'invito. Buonasera anche al professor Clerici, che è collegato con noi, microbiologo, CTS Lombardia. Buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera a tutti. Possiamo toglierli, possiamo togliere questo aggeggio, ha capito? Ha visto che manteniamo le distanze. Bene. Ok, via. Via, via. Va bene, via. Allora, velocemente, professore, due cose. L'abbiamo chiamata per due cose. Allora, lunedì inizia la possibilità di pronotare il vaccino per tutte le persone che hanno dai 50 ai 59 anni. Quando inizieranno i vaccini? Prima domanda. Cioè, si iniziano a pronotare, ma secondo lei più o meno quando inizierà la vera e propria vaccinazione? Prima domanda. Considerando che la popolazione dai 50 ai 59 rappresenta il 16% della popolazione lombarda, circa 1 milione e 600 mila persone, e dovendo ancora concludere le vaccinazioni pronotate fino al 25 maggio, è auspicabile e penso anche realizzabile che dal 25 al 30 maggio si possa iniziare a vaccinare questa fascia d'età. Ok, seconda domanda. Si parla da diversi giorni, il generale Figliuolo l'ha ripetuto più volte, di estendere AstraZeneca anche al di sotto dei 60 anni. Questo vorrebbe dire dare AstraZeneca anche alla generazione tra i 50 e i 60 anni. Al momento è consigliato di non darlo. Ci possiamo aspettare che tra domani e lunedì arrivi il via libera per l'AstraZeneca anche ai 50 anni? È molto probabile, anche se qualcuno scientificamente sostiene che sarebbe meglio consigliarlo solo agli uomini al di sotto dei 60 anni, visto gli effetti collaterali e gli eventi avversi che si sono verificati sulle donne. Per cui credo che sicuramente nel giro di due o tre giorni verrà fatta chiarezza. La logica vorrebbe che fosse liberalizzato a tutti, uomini e donne. Poi vediamo se i dati scientifici sosterranno questa idea, non avremo più problemi. Però ricordiamoci che non ci sarà solo AstraZeneca, ci sarà anche Pfizer, Moderna, Jocelyn & Johnson. Quello che c'è il giorno e l'ora in cui vi presentate vi verrà somministrato. Questo l'abbiamo capito. Non potete scegliere. Questo l'abbiamo capito. Non c'è tanta teorie fragili. No, no, certo. Ma Jocelyn & Johnson arriva già da… C'è già? Quanto manca? No, è arrivato. Sono arrivate alcune migliaia di dosi. Erano arrivate 150 mila dosi in tutta Italia. Adesso stiamo aspettando un rifornimento importante, che non sappiamo quando giungerà. Ci auguriamo a presto. Il problema è che ieri due nazioni europee del Nord Europa hanno bloccato la somministrazione di Johnson & Johnson. Quindi non vorrei che si ritornasse a un rallentamento dell'invio dei prodotti di questa azienda. Quella lì è la svolta vera alla fine. Se arrivasse Johnson & Johnson anche se monodose, certo. Ma lei, io mi aspetto, io da cinquantenne donna, io sinceramente qualche perplessità su AstraZeneca alle donne ce l'ho, visto che tutti quanti, a partire da lei, state dicendo forse sarebbe meglio alle donne no. Io mi rendo conto che poi se vado lì… C'è qualche industria collega immunologo che l'altro ieri ha fatto questa ammissione scientifica portando dei dati che, visto che gli eventi avversi si sono verificati nella popolazione femminile under 60, forse sarebbe il caso di salvaguardare dalla somministrazione questa popolazione. Ma stiamo verificando i dati. Se devo essere sincero, non c'è questa evidenza che su 1.600.000 persone ci possono essere eventi avversi importanti come si sono verificati su decine di milioni di vaccinazioni. Poi è chiaro, nessuno vuol caderci dentro, però verifichiamo bene i dati e prendiamo una decisione consuma. Però guarda che adesso il problema di AstraZeneca non è il rischio della trombosi profonda, della trombosi cerebrale. La gente, quella che rifiuta AstraZeneca è perché si deve far vaccinare nella seconda metà di luglio e all'inizio di agosto con il richiamo e non vuole ritornare dalle vacanze o non vuole interrompere le vacanze. Allora, prima si voleva vaccinare, tutti dovevano essere vaccinati, tutti volevano correre, però adesso iniziano i se, i ma, ma forse, e allora si mette anche in evidenza il problema dell'eventuale evento avverso per cercare di evitare AstraZeneca. Quindi lei dice che è solamente perché uno va in vacanza. In effetti c'è anche quel problema. No, beh, certo. C'è anche quel problema. La parte di coloro che rifiuta l'AstraZeneca e poi dopo si cerca di convincerli, ma se non si riesce pazienza, ritorneranno un'altra volta, il rifiuto viene motivato dal fatto che sono in vacanza quando dovrebbe essere somministrata la seconda dose. Va bene, ultima domanda, poi sentiamo anche loro. No, vai tu prima. Quelli a casa, sì. Vai a quelli a casa. Allora, quelli a casa, qualcuno dice a Pavia, Johnson & Johnson, 60 anni, la persona che l'ha fatto sta benissimo, quindi sono anche quelli che... E invece c'è una domanda. Buonasera, potete chiedere al professore questa cosa. Ho 56 anni, ho fatto il Covid a marzo 2020, quindi è stato uno dei primi più o meno a farlo. In ospedale oggi ho fatto il sierologico e ho il livello degli anticorpi ancora molto elevato. Lunedì 10 maggio dovrei fare il vaccino. Cosa mi consiglia di fare il professore, visto che ho gli anticorpi ancora molto elevati? Lui dice di farlo. Grazie, è un dubbio forte. Allora, non lo consiglio io e non lo dico io, ma lo dicono tutte le linee guida internazionali. Primo, il sierologico non andrebbe fatto perché non ha nessun valore se non ha scopo di ricerca e di indagine epidemiologica, per cui è da prendere e mettere in un cassetto. E anche coloro che hanno fatto il Covid a tre mesi dal Covid e dentro sei mesi in genere dalla scomparsa del Covid dovrebbero essere vaccinati almeno con una dose di vaccino. Questa è la norma e le linee guida sono queste e devo dire che hanno successo. Dove vengono applicate il successo si vede. Ma se uno ha fatto il Covid un anno fa, quindi deve fare solo una dose di vaccino, non due? Una, ma anche se l'ha fatto più recentemente una dose, perché ha comunque una sorta di immunità di memoria immunologica che deve essere riattivata almeno con una dose di vaccino. E a quel punto lì possiamo essere immunizzati per i prossimi otto mesi, un anno, non lo sappiamo, perché tutto è da verificare. Senna? No, partiamo dai dati di oggi, mi sembra che stanno segnando dei passaggi positivi, soprattutto sul numero dei decessi. Probabilmente si sta iniziando a vedere gli effetti delle vaccinazioni agli over 80 e agli over 70. Questo più o meno è fisiologico e ci fa besperare. Per quello che riguarda la scelta del vaccino, in un momento del genere mi sembra veramente assurdo che si abbia la pretesa... Di scegliere quale vaccino. No, perché se no, ragazzi, non andiamo più a casa. Io ho sentito un telefonato di tutti. Perché poi purtroppo, o per fortuna, c'è internet, perché c'è la rete che ha molti passaggi positivi. Però una volta almeno ci limitavamo ad avere 60 milioni di allenatori della nazionale. Adesso abbiamo 60 milioni di medici, 60 milioni di virologi, 60 milioni di qualsiasi cosa. Ma l'ho letto su Inter e poi girano dei video che sono inquietanti. La domanda che vuoi fargli? No, io... Ah, era solo... No, sono sorpreso che la dottoressa Santa Croce dice che fa parte della fascia, che faccio parte anch'io, che dal 10 maggio mi potrò vaccinare degli over 50. Ci prenotiamo lunedì mattina. Non crediamo questa cosa. Lui deve essere davanti a prenotare. Io il 10... Lunedì mattina ci prenotiamo. Proverò, ma l'ho già provata per mio fratello e per altre persone, la ritrovata efficienza lombarda. Ricordo che Lombardia ormai abbia messo la sesta perché la quinta non c'era più. Ma fatemelo dire. No, no, non voglio dire. Quando c'era da prendere le sberle, io sono venuto e ho preso le sberle. Per prima lo dico io tutte le volte, adesso la Lombardia sta andando benissimo. Siccome la stampa spesso non fa il suo dovere e ci dedicava paginate su paginate, adesso ricordiamo con profondo piacere per tutti che siamo arrivati a fare più vaccinazioni degli altri, il meccanismo sta funzionando molto bene. Anche la stampa quando vi dedicava paginate non faceva il suo mestiere, faceva il suo mestiere anche quando dedicava paginate. No, 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 forse faceva molto il suo mestiere. Ma era giusto, sarebbe bello un po' di equilibrio quando c'è da bastonare, si bastona, quando c'è da alloggiare magari non si mette dopo i necrologici, no? Allora a questo proposito, non parlo del fatto quotidiano perché il fatto quotidiano rimpiange Arcuri e che apriti cedo. No, no, però Gianmarco mi fa venire in mente una cosa, perché proprio il fatto quotidiano, così glielo chiediamo al professore, ha pubblicato la foto del lab di Novegro l'altro giorno, deserto, dicendo mancano le dosi che disastro. In realtà quella foto l'aveva fatta lui il primo giorno, quando certo che non c'era nessuno, non era il primo giorno, quindi io volevo chiedere. Nel senso, è vero che non ci sono, cioè Novegro ha una capacità di 5.000, è vero che da lunedì fa 2.000, 2.100, 2.200, 2.300. Ma non è che è vuoto. Perché non ci sono le dosi, ma non ci sono delle ore in cui ci sono le sedie vuote. Sentiamo lui. Poi chiudo, a Travaglio sta andando tutto male, a partire da Arcuri fino ad arrivare a Davigo e alla magistratura. Sentiamo il prof. Novegro, allora come è la situazione a Novegro? Se vogliamo essere corretti fino in fondo, la Lombardia, partita male, accelerata, andata benissimo, adesso è costretta a rallentare, siamo sulle 80-85.000 dosi contro le 100.000-110.000 che potremmo somministrare, perché il generale Figliuolo ha deciso la settimana scorsa di distribuire le modalità di vaccinazione, quindi implementando alcune categorie di fragili. Allora bisogna recuperare i vaccini per quelle categorie. Ecco perché in questo momento, questa settimana, abbiamo avuto una flessione, ma è una flessione fisiologica dovuta a una redistribuzione delle categorie che devono essere vaccinate. Poi hanno detto che fino a metà maggio, almeno a Novegro, siamo su quei numeri lì, poi dopo si riparte a regime. Non mi avevano spiegato questa cosa, però io ho semplificato dicendo che mancavano le dosi, nel senso che ne fai 2.000 invece di farne 5.000, per cui sostanzialmente inoculi meno. Cose banali, si è deciso di vaccinare le isole minori, si è deciso di vaccinare i luoghi sperduti, dove non ci sono presidi sanitari, dove non si può andare dieci volte a vaccinare, ma conviene andare una volta sola per due giorni a vaccinare 2.000 persone. Ecco perché si sono ridotte le dosi nei grandi centri. Probabilmente in pochi giorni riprenderemo. La Moratti oggi diceva, non ho capito se è una richiesta ufficiale o se è un pour parler, potremmo prendere noi le dose di vaccini che certe persone in certe regioni rifiutano. Ad esempio in Sicilia sono in tanti a rifiutare AstraZeneca e ha fatto questa proposta. Poi il PD ha risposto che siamo in Italia e non possiamo fare le regioni a velocità diverse. È vera questa cosa? A te risulta che c'è una richiesta dei vaccini avanzati nelle altre regioni? È una richiesta che io mi sento di appoggiare nel momento in cui si abbia la certezza che le 250.000 dosi presenti in Sicilia non vengono utilizzate, allora vengono distribuite in tutto il resto dell'Italia dove c'è una capacità vaccinale importante. Non possiamo lasciare ferme 250.000 dosi, sono 125.000 persone in meno che vacciniamo. L'Italia è lunga e stretta, distribuiamo in tutte le regioni dove si vaccina. Paolo sei d'accordo? Perché il PD oggi ha risposto alla Moratti dicendo scordatelo siamo in Italia. Quello che preoccupa è chi non le usa. Qualche mese fa, lo ha detto anche Senna, lo stesso problema ce l'aveva la Lombardia. Se avessimo portato via le nostre dosi per portarle da qualche altra parte… Non c'erano le dosi però. Noi, ciao, sì, sì. Beh no, diciamo che c'era aria che lavorava male. C'era aria che aveva perse per strada. Non riescono a dire. Le aveva perse. Ma c'era aria che non era capace di organizzare le presentazioni. Il cambio composte ha cambiato completamente la vita. E' il cambio di alcuni, indubbiamente. Due cambi che hanno cambiato questo. No, il terzo l'hanno mandato via a Bertolaso, l'hanno rimandato a Roma. Però sei una persona corretta. Ci sono stati 2.500 problemi con gli sms. Quando eravamo arrivati a 2.500, che non devono accadere, soprattutto in Lombardia perché abbiamo abituato bene. Certo. 2.500 eravamo arrivati a 1.200.000 vaccinazioni. Cioè non confondiamo le due cose. Un discorso, erano i problemi tecnici enormi e chi doveva pagare ha pagato perché in Lombardia chi deve pagare paga. Questo è un dato di fatto. E un discorso era la quantità di vaccini che erano stati fatti che eravamo a 1.200.000. Ho capito. Poi dopo abbiamo messo il turbo. Però adesso del passato non ci interessa più. Va bene. Guardiamo avanti. Congediamo il prof o vuoi chiedergli qualcos'altro? No, sono arrivati un po' di messaggi di donne che continuano però a sottoporre questo problema. Il mio problema è mio. Che sappiamo un po' di perplessità. C'è Giovanna, ad esempio, che dice Noi donne non vogliamo AstraZeneca. Noi. Noi donne, Giovanna plurale, diciamo. Noi donne non vogliamo AstraZeneca non tanto per il fatto che poi il richiamo ad agosto ma perché voglio a dire a quelli che hanno persone che hanno avuto problemi anche se sono poche, ai parenti di chi ha problemi. Però scusami, tagliamo la testa al toro. Totalmente la testa è così. No, no, però domanda secca, prof. Siccome dicono che il problema ce l'hanno le donne che prendono le pillole, la pillola, quindi trattamenti di ormoni, questa cosa ha un significato anche nella cinquantenne oppure no? Allora, che la pillola anticoncezionale sia un fattore di rischio per la coagulazione del sangue e quindi per innescare le trombosi è risaputo da quel D. Però se non ci sono fattori particolari di natura genetica e la persona comunque lo sa perché si assume la pillola da 20 anni, gli esami li ha fatti, può andare tranquilla. Certo che se ci fossero degli esami che non sono nei range della norma, portandoli al centro vaccinale, il medico che redige l'anamnesi prima di sottoporre alla somministrazione del vaccino la paziente, sceglie il vaccino consono. Bisogna recarsi con tutto ciò che si ha a disposizione sulla propria vita sanitaria. Questa è la cosa importante. Gli esami del sangue prima, lo dico alle mie coscritte. Paolo, vuoi dire una cosa? No, no, io volevo solo dire che io a casa ho mia moglie e mia figlia più piccola che sono state vaccinate tutte e due. Con AstraZeneca, ok. Tutte stanno bene, tutte e due. E mia moglie è under 60, per cui... Eh beh, quindi è under 60, il problema sono gli... Ah no, under 60, scusami. Under 60, con AstraZeneca l'ha fatto. Sì, sì. Perché l'ha fatto come insegnante? Come insegnante. Va bene, devo chiudere. Pecidica perché sennò... No, no, più di più di più di un insegnante e uno è volontario in croce rossa. Va bene, scusate, devo... Pecidichiamo. Fermi che Iacopo sta parlando. È che quando tu vai lì, non è che arrivi e non c'è nessuno che ti guarda, nessuno... Cioè, io ho visto gente che doveva fare AstraZeneca, il medico che era lì per fargli il vaccino, ha guardato i fogli, ha chiesto due cose, ha capito che c'era stato un errore precedente e gli ha detto, bene, aspetti un attimo. Pronto, mi portate Pfizer un attimo? No, ok, io ne ho visti invece io che hanno detto, no, lei fa AstraZeneca e basta, quindi dipende chi ti trovi. Siamo onesti. Sì, ok, però esistono anche quelli che fanno l'anamnesi... Corretta e quelli che non la fanno. Lo sai, cioè nel senso... Va bene, grazie prof, ti faremo sapere quando io e Senna facciamo il vaccino, visto che lunedì ci scriviamo. Io allora la chiamo più. Lui è giovane. Buona serata. Ciao, ciao prof. Buona sera, grazie prof. Va bene, mandiamo la fascia, poi parliamo di domani, che domani ci sono gli interisti, quelli che fanno l'IDL ZAN, tutti che vanno in piazza. Ci sono gli interisti domani. Vediamo se c'è il rischio assembramento, a tra poco. Siamo arrivati alla telepromozione della primavera. Si ha voglia di rinnovare la casa, ma soprattutto si ha voglia di riposare bene. La parola materasso. A cosa vi fa pensare? Al dormire, al riposo. Materasso uguale salute. Materasso uguale stare meglio. E la soluzione è solo una, la Mondoflex. Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene. Materasai non ci si improvvisa da un giorno all'altro. Ci vogliono anni e anni di esperienza. Approfittate delle nostre promozioni. Al benessere non si rinuncia. Venite alla Mondoflex. Troverete le novità a prezzo di lancio. E con la carta oro, un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni. Venite alla Mondoflex, perché il miglior risparmio è la qualità. Vi aspetto! Da Estetica alla Creta, per la cura del corpo disponiamo di tecnologie all'avanguardia, quali radiofrequenza, pressa terapia, endosfere, oppure scegliere di godere dei classici trattamenti manuali, come massaggi specifici, bendaggi, fanghi, scrub, corpo. Oltre a tutti questi servizi, il nostro salone offre alla propria clientela servizi di osteopatia, trucco semipermanente e tattoo, con personale altamente competente e qualificato. Estetica alla Creta, 20 anni di esperienza al vostro servizio. Vi aspettiamo! Vamag, tecniche di collaudo, presenta One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di due minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality Made in Italy. Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Agratemelzo e sul web dimensionebagno.it Non perdere l'appuntamento con Metropolis. Tutti i giorni temi di attualità discussi dai nostri ospiti e poi, nella seconda parte, gli esperti al tuo servizio. Il lunedì prepara le tue domande all'esperto di pensioni, il martedì tocca all'amministratore di condominio, il mercoledì daremo spazio al rappresentante dei consumatori, il giovedì verranno in studio i nostri amici veterinari e il venerdì il medico pronto a rispondere ai tuoi quesiti. Tutti i giorni con Metropolis. Allora, rieccoci. Sabato a rischio tra Didierle e Zanna e festa dell'Inter. C'è un'altra festa dell'Inter, lo sapevi Senna? Eh, da milanista. Diciamo che ho passato gioie migliori. No, ma domani... Da milanese però sono contento. Ma sei proprio un politico. Diamo un cristiano. Diamo un cristiano. No, comunque adesso, a parte gli scherzi, c'è la raduna dei tifosi dell'Inter a due e mezza, giusto? Due. Alle due, fuori da San Siro, 3.000 persone sono ammesse alla festa. Sì, poi voglio vedere chi li controlla, che siano 3.000 giusti, eccetera. So che anche il tifo organizzato si sta organizzando, scusate il gioco di parole, per evitare che siano troppi. Però poi voglio vedere chi li controlla, questi. Ma anche i milanisti avrebbero fatto lo stesso casino. Non credo che possa entrare nello stadio senza fare un triage. No, ma non devono entrare. Solo fuori? In una zona particolare fuori. non entra dentro. Forse era meglio all'interno, forse. Eh, però non può entrare all'interno. Eh, però se lo stadio è chiuso, non possono entrare. Adesso non lo so, però organizzare… Non è che decide il sindaco questa cosa qua, una norma del governo. Il sindaco lo può attaccare per mille cose. Sinceramente non è su questa. Era per capire se tecnicamente, sai, aprendo una parte dello stadio, 3.000 persone ben distanziate, con segni a posto, poi sinceramente diventa lo stesso difficile, perché sappiamo l'eufonia… Come fai a tenerli lontani? Quando sei lì che festeggi, ti abbracci, non devi abbracciarti, ti togli la maschera e non devi togliertela. E poi c'è anche la manifestazione per il DDL Zankova. Io sono un po' contrario a queste manifestazioni. In questo periodo, in questa stagione, è meglio di no. O c'è un motivo veramente grave, altrimenti bisogna usare precauzione. Non siamo ancora fuori dal pericolo, non siamo ancora fuori dal rischio. Io credo che ogni persona deve usare un senso di cautela nei suoi confronti, ma anche nei confronti delle altre persone. Perché poi ognuno di queste persone tornerà a casa, avrà dei familiari, avrà dei genitori, avrà dei figli, questi figli andranno a scuola, questi ragazzi andranno a scuola, metteranno a rischio i propri compagni. Sì, questa è la cosa che dicono tutti i virologi e che sinceramente anch'io vedendo queste immagini... Perché lui è noto e lei è un cronista del Milan. No, però, quello che volevo dire è che siamo andati a controllare quando c'è stato il Napoli, cos'è che aveva vinto? La Coppa Italia. La Coppa Italia. Anche nel caso del Napoli era successo di tutto. Non c'è stata un'impennata. è anche peggio di quello che è successo. Forse è anche peggio perché i napoletani diciamo che sono anche meno rispettosi dei... Vincono anche meno, quindi ogni volta vincono qualcosa. E sono anche più espansivi, no? Sì, anche sì. Non c'è stato un incremento dei contagi, quindi questo mi fa pensare che forse veramente all'aperto il rischio sia minimo. Adesso non voglio che questa cosa venga presa con bene, allora facciamo quello che ci pare. Però bisogna anche considerare questa cosa. Sono tutti festeggiamenti, manifestazioni all'aperto e quindi hanno un rischio inferiore. Anche perché a difesa in questo caso dei tifosi, anche se capisco le parole di prova... E anche dei manifestanti di Zan. Sì, guarda, sinceramente, la legge Zan, il DL Zan, ha solo una parte dell'articolo 4 sul rischio di libertà di opinione. Io mi spiace per loro che sono un po' chiusi, credo che non si debbano processare le idee per il semplice fatto che poi per il resto chi aggredisce o chi insulta è giusto che venga... È giusto che paghi e il problema poi è che ci sia la certezza della pena, magari non come quando si è depenalizzato certe pene sotto 5 anni perché sennò stiamo facendo un cinema assolutamente per nulla. C'è in quel passaggio... L'articolo 4 è quello che però garantisce la salvaguardia della libertà delle idee. È certo. L'articolo 4 parte con delle enunciazioni che sono di altissimo profilo sul concetto di libertà, poi c'è virgola e fa capire in maniera chiara, forse per carità di Dio devo aver disimparato l'italiano o non l'ho letto bene ma me lo sono letto 20 volte. Un dato preoccupante, i sondaggi dicono che solo il 13% degli intervistati conosce i contenuti del DL Zan. e qua bisognerebbe riflettere. Comunque dopo quella virgola c'è un passaggio che lascia nelle mani del magistrato la scelta di determinare che cosa... Lo leggo l'articolo 4? Sì, brava, leggiamo. Facciamo un po' di informazione come sapete fare voi. Ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o di opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà o alla libertà delle scelte. E questa è un passaggio quindi vuol dire ognuno è libero di dire tutto quello che gli pare. Perché uno può dire anche, faccio un esempio così andiamo, che l'omosessualità è una devianza per me è un imbecille però possiamo confrontarci sulle idee e fin qua ti permette di confrontarti con le idee. Purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Ok, e qua si apre un mondo che va a discrezione del magistrato. Cioè, io la capisco così. Questo punto qua è delicato. Stai fomentando oppure non stai fomentando non lo può decidere. Io posso dire l'utero in affitto per me è un abominio. Lo posso dire? A parte che è un abominio. Ma lo posso dire? Certo. È un esempio. Allora, in questo caso dipende poi l'interpretazione che fa il giudice perché se il giudice determina che quello che tu hai detto ha causato o può causare violenza in questo caso rientri nella fattispecie. Allora io ti controbatto. Perché non andare in Parlamento e togliere la virgola e far approvare? togliere quello che c'è dopo. Eh sì, togliere quello che c'è dopo la virgola. A parte che non vogliono toccare perché il problema è che lì dietro c'è un approccio ideologico. Ma qua abbiamo Cova che ha posizione diciamo non così radicale e ideologiche. Lo sappiamo. No, beh, lui è cattolico. Infatti, i luati hanno dei grossi problemi in Parlamento perché è inutile che stiamo lì poi a raccontarci la rava e la fava. Sono stati un anno in Parlamento e si fa fatica a portare a casa. Ma anche tra di voi c'è qualcuno che è a favore. Ad esempio, c'è Lio Vito di Forza Italia che è a favore. non è l'unico di Forza Italia. Non è l'unico. C'è anche Cecchetti del tuo partito. C'è anche Cecchetti. No, io ti sto facendo ragione. No, Cecchetti la pensa come me da questa puntata. su questo della virgola? Ma quella roba lì è un fattore di... Cioè, se tu ritieni che la libertà di opinione sia un fattore fondamentale di una democrazia, non puoi non essere d'accordo con quello che dico io in questo momento. E non metteresti la virgola è quello che c'è dopo. Tu inizi a dire noi stracciamo questo. Il problema è che lì c'è un approccio ideologico. Con gli approcci ideologici non si va da nessuna parte. Cioè, non è un discorso di tutela di determinate vittime perché è uno che aggredisce qualcuno per il colore della pelle, per i suoi... O anche per l'orientamento sessuale. È un imbecille totale. Ok. Vi siete fatti dir di no? Cioè, qualcuno ha proposto questa cosa e avete aspettato che qualcuno di dici se no? Oppure non lo diciamo perché tanto ci diranno no? ma voi avete sentito i dibattiti? Ma non in strada? Vai in aula. Ma ci sono state le commissioni. Io non ho seguito le commissioni e hanno proposto questa? Ma certo che ci sono... Adesso io ho tutte le proposte e non le ho. Ma figurati se non sono state... Allora... Io non lo so se è stato proposto o se c'è stato un blocco ideologico. Anche da parte vostra. Io ti parlo della regione ma gli ITER sono identici. io presiedo la commissione attività produttiva. Arriva un progetto di legge e ci sono su progetti di legge semplici ci sono sempre X emendamenti che vanno più o meno a toccare tutto. Cioè, tu immaginati non ti sto rispondendo con certezza perché non ero presente perché non mi sono letto tutti i passaggi. Su un PDL come questo se un passaggio del genere non ci sono state delle richieste di emendamento... Eh non lo so bisognerebbe andare a cercare questa cosa. Questo articolo è stato anche emendato perché alla Camera non era così in origine. Ha già stato emendato. Sì, sì, sì. Sono state introdotte le modifiche proprio perché per evitare il problema che ci fosse una mancanza di libertà di espressione sono stati introdotti questi emendamenti. Però quello che non piace a lui è quello che c'è dopo la virgola che riporta tutto nelle mani del giudice. L'avete letto tutti quello non è che sto dicendo una roba da marziano però Cena in qualsiasi cosa e in qualsiasi giudizio il giudice farà le sue valutazioni su qualsiasi provvedimento qualsiasi provvedimento ti faccio un esempio ma perché i giudici non intervengono e non puliscono il reato di fascismo che c'è l'apologia che hanno fatto la festa ad ongo hanno fatto la festa ad ongo dovrebbero fare e lì non ci vuole molto e non avviene è in costituzione o meglio è un abbracato per cui tu vedi che in alcuni casi non c'è neanche l'interesse la mente è grande Allora a me preoccupa che non rispettino la costituzione i giudici ma preoccupa che hanno una discrezionalità su un articolo che è pericoloso per la libertà di opinione Cioè tu dici poi c'è un giudice che è ideologizzato che se la prende anche con te è solamente detto l'utero in affitto è un abominio devi commettere veramente discriminazione e violenza Io parto magari da un pregiudizio No devi indurre Io parto da un pregiudizio no? Facciamo partiamo così anche se tu sai che non sono uno da pregiudizi tu che hai letto questo articolo l'hai capito come l'ho capito io che magari ho il pregiudizio o in maniera differente? No io l'ho capito come te però ritengo anche che che questo non idonee a determinare il concetto pericolo sia veramente sottile Ma ragazzi ma voi sono così Ma ragazzi mi state rendendo conto che cosa sta uscendo negli ultimi 24 mesi sulla magistratura che operazioni Certo ma stiamo scherzando Lasciare Ma ho capito Ma scusami ma ragazzi a me a me allora ragazzi io e come veramente e poi chiudo ti dirò di più e poi chiudo se vogliamo lavorare sull'inasprimento delle pene figurati se il centro-destra non è per l'inasprimento delle pene Io dico ti prendi 5 anni però ti fai 5 anni non ti depenalizzi Beh però scusa Gianmarco adesso non è la sede perché abbiamo altre cose da parlare però mi sembra che Salvini qualcuno della Lega voglia raccogliere le firme per togliere del tutto la legge Mancino quindi vuol dire che quella del reato che della parte di allora allora ragazzi io io veramente posso fare l'esempio io attualmente con la legge Mancino non posso dire negro di M non lo posso dire però posso dire finocchio di M questo lo posso dire è questa la differenza secondo me come la penso io secondo me tu potresti dire sia una cosa che l'altra sul reato io sono libertà cosa ti devo dire cioè io voglio che tu abbia il diritto fino alla fine di dire quello che pensi questo deve essere perché sulle idee ci confrontiamo sulle idee non devo sbattere in galera le persone ok è questo il punto allora aboliamo allora aboliamo tutta la legge Mancino ma sì ma io personalmente sono ma non è un'idea questa dai ragazzi queste afferrazioni non è un'idea non è un'idea ha un approccio ideologico tu che sei in un'area di centro cattolica la sai benissimo mi stanno tirando per i capelli che io non ho su un approccio ideologico se te la devo dire il mio problema è ben altro perché il tema grosso è l'identità e del genere cioè su quello scusa cova su l'utero era finito no 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 scusa sulla madre surrogata certe battaglie della sinistra del PD sulla madre surrogata ma non è di fatti no non si è fatto eh lo so però sono pericolosi ok allora adesso però l'argomento di questa sera non era entrare nel contenuto del DDL Zan ma era parlare del fatto delle manceresse dell'assemblamento sono già finiti domani però c'è anche un altro raduno in piazza che è quello dei medici che curano a casa il covid perché si protestano anche perché anche per quello il protocollo del Damò che dovrebbe arrivare ma loro sono tutti vaccinati i medici a tra poco parliamo di quello spero sì loro Ducati Milano gli specialisti delle due ruote da oltre 20 anni siamo concessionari esclusivi per la città di Milano e provincia da noi troverai un salone di moto nuove con tutta la gamma in esposizione un vasto salone di moto usate un reparto abbigliamento e di accessori ed un'officina tecnica specializzata e poi tanta tanta passione ti aspettiamo viviamo in un mondo dove ognuno vuole far sentire la propria voce c'è chi dice di non andare troppo lontano chi dice che non si può avere tutto ognuno è sicuro di sapere cosa sia meglio ma alla fine c'è una sola voce che conta la tua gamma SUV Mercedes-Benz scopri anche le versioni full electric e plug-in hybrid per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus non è un film è nuova Dacia Sandero nuova gamma Dacia Sandero nuovo design nuovi equipaggiamenti a maggio ancora da 3 euro al giorno scoprila anche in versione turbo gpl siamo arrivati alla telepromozione della primavera si ha voglia di rinnovare la casa ma soprattutto si ha voglia di riposare bene la parola materasso a cosa vi fa pensare al dormire al riposo materasso uguale salute materasso uguale stare meglio e la soluzione è solo una la Mondoflex noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro ci vogliono anni e anni di esperienza approfittate delle nostre promozioni al benessere non si rinuncia venite alla Mondoflex troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni venite alla Mondoflex perché il miglior risparmio è la qualità vi aspetto Milano e Inter protagonista in campionato la Juventus non molle marca stretto parlare di queste tre grandissime squadre è diventata un'esigenza ecco perché nasce alta classifica una trasmissione dinamica e con un parterre di ospiti nazionali Stefano Eranio Riccardo Ferri Marco Iuliano Nicola Moruso Massimo Caputi e il direttore Mario Sconcerti e allora vi aspetto ogni martedì sera dalle 21 alle 23 con alta classifica su Telenova canale 14 eccoci rinasceremo con le cure la prevenzione e le cure domiciliari per il covid 19 bentornato al dottor Andrea Mangiagalli buonasera dottore medico di medicina generale è in prima linea nelle terapie domiciliari per il covid allora una cosa sola prima la prima cosa è questa noi ci siamo lasciati parlando del fatto che un gruppo di medici aveva vinto il ricorso contro il governo il ministero della salute e l'AIFA che aveva stabilito che la tachipirine e la vigile attesa era l'unica cosa da fare per chi era malato di covid a quel punto abbiamo tutti pensato bene si scriverà un nuovo protocollo ci sono state anche delle riunioni io lo so perché anche il viceministro Sileri vi ha convocato so tutto direttamente poi noi tutti ci aspettavamo questo protocollo improvvisamente qualche giorno fa leggiamo che il governo ha fatto ricorso al consiglio di stato contro la decisione del Tar e ha vinto quindi siamo tornati da capo cioè di nuovo tachipirine vigile attesa si di fatto è stato riscritto di fatto un documento che verosimilmente era già pronto rispetto a quando è stata impugnata la sentenza perché è un documento abbastanza lungo e quindi si stava lavorando su questa su questa cosa da tempo probabilmente anche all'insaputa del sottosegretario il viceministro Sileri che ovviamente non era chiaramente al corrente se non avrebbe avuto senso organizzare tutto questo collegamento tra noi e le istituzioni abbiamo avuto anche una una chiamata una telefonata una call con il dottor Bassetti e con il dottor Remuzzi insieme a Luigi Cavanna proprio per cercare di spiegare quello che noi abbiamo fatto in questo anno e quello che ci sembrava ragionevole continuare a fare il fatto che sia stato impugnato la sentenza del Tar evidentemente giustifica il fatto che si voglia mantenere in essere questo tipo di approccio che di fatti è confermato anche da tutte le indicazioni sul non fare sul non fare sul non dare terapia antibiotica sul non dare il cortisone sul non dare l'eparina sul non dare ovviamente l'idrossiclorochina e quindi di fatto si torna a quella che è la vigilia attesa ora al di là del fatto che io mi aspettavo che perlomeno cambiasse dal punto di vista lessicale l'approccio perché parlare di vigilia attesa vuol dire indurre un errore sia nei pazienti che anche nei colleghi nei medici perché il concetto di attesa è di qualcuno che sta seduto come sono io adesso con le braccia concerte che aspetta qualcosa che non si sa quando si verifichi era sufficiente dire che invece di vigilia attesa si poteva parlare di attenta sorveglianza il concetto non cambiava ma l'attenta sorveglianza prevede che io sto in piedi aguzzo la vista e cerco di capire cosa succede prima che mi sorprenda quindi l'idea di avere mantenuto questo lessico di vigile attesa dove la fa da padrone il sostantivo attesa il vigile poi spesso passa in secondo piano secondo noi e secondo molti che stanno curando gli ammalati in questo momento è un concetto fondamentalmente sbagliato perfino il professor Remuzzi che dice continuamente che il protocollo è stato scritto bene poi dopo all'atto pratico dice che loro e il suo gruppo fanno un'altra cosa intercettano i malati addirittura prima che abbiano fatto il tampone con la terapia antinfiammatoria e quindi diciamo va un po' da una parte dice che il protocollo va bene dall'altra dice che però si fa qualcosa subito pur con gli antinfiammatori ma comunque non sicuramente con la tachipirina e non sicuramente aspettando quindi ci sono delle incongruenze anche no no ma dottore scusa però non è che ormai ad esempio questa cosa degli antinfiammatori non è passata perché Remuzzi l'ha detto in tutti i modi voi lo state dicendo tutti quanti poi anche i casi che si conoscono amici parenti ormai gli antinfiammatori li date a tutti cioè io non sento più nessun caso curato solo con la tachipirina cioè c'è una discrepanza tra la realtà e quello che viene scritto perché un anno fa qualcuno veramente la dava la tachipirina e basta ma adesso secondo me non la dà quasi più nessuno o mi sbaglio purtroppo non è così purtroppo non è così io ricevo telefonate giornalmente un po' da tutta Italia perché ormai è successa questa cosa quindi mi chiamano un po' dovunque persone che stanno facendo la vigila attesa con la tachipirina con poco altro a volte a volte anche con nulla nel senso che qualcuno dice semplicemente di aspettare il risultato del tampone prima di decidere che cosa fare quindi evidentemente il concetto dell'antinfiammatorio o non è passato o passa male nel senso che poi chiamano pazienti che prendono il cortisone immediatamente al primo sintomo che non vale anche bene quello e comunque ci sono stati degli errori perché il cortisone è stato apparentemente sdoganato in opposizione a tutto quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi e molti colleghi hanno pensato che visto che sul cortisone non c'erano limitazioni si poteva usare tranquillamente anche se in effetti poi quello che succede nei malati ricoverati in ospedale è proprio questo viene somministrato cortisone viene dato ossigeno e poco altro le parina se sono allettati ma non è che scusami dottore non è che alla fine tutto questo viene fatto arrivo Senna perché in realtà c'è una impostazione in Italia che è quella ospedale centrica cioè il fatto di mettere in vigile attesa vuol dire o guarisci da solo o è meglio che te ne vai in ospedale cioè sotto sotto c'è questa idea secondo me ma non era la Lombardia che faceva così non solo evidentemente se lo fa il governo rispondimi rapidamente e poi intervengono anche gli ospiti qui certo è chiaro che si è sempre pensato si continua a pensare che questa sia una malattia curabile esclusivamente in ospedale lo stesso protocollo dei monoclonali che oggi fa tanto scalpore è un protocollo applicabile solo ed esclusivamente in ospedale Cosa che è un medico anche lui anche se è veterinario no beh sei un medico sì 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 io sono un medico medico veterinario no la mia osservazione era un po' questa la dico da politico secondo me i medici hanno competenza e scienza per sapere prendere le decisioni ci sono dei protocolli e questi vanno bene però poi la scelta nel momento in cui si visita il paziente è di competenza dal medico non è di competenza di un protocollo per cui io credo che se un medico soprattutto i medici di medicina generale che conoscono il paziente che l'hanno visitato e decidono di attuare una terapia non è che dicono ah no il protocollo è quello io non faccio niente a me non sembra cioè io da sanitario non farei così o no ho capito però scriviamoli un po' meglio questi protocolli poi dopo praticamente il cittadino come giustamente ha detto si trova il medico che sta fermo il medico ha una responsabilità perché comunque è il sanitario che visita conosce il paziente e deve decidere la terapia in scienza e coscienza non in base ai protocolli però se nel momento in cui il protocollo ti dice tachipirine vigilatesa uno si lava le mani e dice io sono un sanitario io sono un medico devo dare la terapia vedo il paziente decido cioè l'abbiamo detto prima con i vaccini il medico non sono tutti come te no ma aspetta sentiamo un attimo perché secondo me ci sono anche delle problematiche ad andare contro un protocollo cioè comunque diciamo che c'è un aspetto se uno si mette a trattare un paziente a domicilio come stiamo facendo noi da un anno utilizzando l'idrossiclorochina che richiede un consenso in formato specifico utilizzando l'eparina anche se il paziente non è immediatamente allettato utilizzando il cortisone e utilizzando eventualmente l'antibiotico sta facendo qualcosa che alle linee guida attuali non è consentito quindi se il paziente dovesse avere un evento avverso nei confronti di questo trattamento il medico è responsabile in prima persona sia per il consenso in formato che ha acquisito sia per il fatto che ha fatto una scelta che contrasta perché le linee guida sono quelle che vengono poi prese da un eventuale magistrato o da un giudice per confrontare il comportamento del medico secondo quello che viene considerato lo standard of care cioè il gold standard della terapia quindi fare una terapia fuori dalla linee guida espone ed è per questo che le linee guida sono nate negli Stati Uniti ovviamente prima che da noi perché garantivano al medico che se rimaneva pedissimamente all'interno della linee guida il contenzioso medico legale poteva per lui essere come dire annullato perché si era comportato secondo linee guida ora le linee guida non sono mai state nel mio modo di vedere due muri entro cui camminare sono le linee come quelle che ci sono sulla strada c'è la linea tratteggiata del sorpasso e c'è la linea di cordi carreggiata a destra si possono oltrepassare in condizioni di sicurezza quando occorre sono delle indicazioni il problema è che se le indicazioni diventano così stringenti da mettere in difficoltà al medico ad applicare questo tipo di protocollo chiaramente molti che non hanno voglia di rischiare decidono di attenersi strettamente ad un protocollo piuttosto rigido e quando il paziente ha 90 di saturazione chiama il 118 e viene portato in ospedale e lì faranno il resto domenica voi fate un raduno all'arco della pace per chiedere che cosa domenica è una conferenza all'aria aperta non è un raduno dove cerchiamo di spiegare ci hanno chiesto di partecipare delle associazioni di persone della società civile senza nessuna polemica nei confronti di nessuno ci chiedono di spiegare come fare per eventualmente gestire un ammalato covid a domicilio tenete conto che io continuo a sostenere da tantissimo tempo l'ho detto anche da voi che noi non curiamo tutti gli ammalati covid curiamo una fascia di popolazione che ha per caratteristiche di età anagrafiche per patologie presenti e quant'altro un rischio più elevato di altri di evolvere in malattia più severa quindi curiamo una parte piccola di tutti quelli che si ammalano non curiamo quelli che hanno 30 anni che probabilmente stanno bene non curiamo persone che non hanno sintomi importanti di tipo desaturazione quindi curiamo una parte piccola e dobbiamo spiegare proprio questo che le cure servono in questa fascia di pazienti e deve essere un medico a valutare caso per caso quale tipo di cura somministrare quanti siete come medici siete aumentati perché noi quando siamo collegati la prima volta l'anno scorso nasceva il comitato il comitato covid-19 prima volta non c'era neanche prima non c'era perché alla fine l'abbiamo visto nascere l'abbiamo visto nascere tutto alla fine noi la nostra chat medici in prima io ormai raccoglie 330 medici un po' da tutta Italia poi sono nate esperienze parallele alla nostra come il gruppo ipocrate.org che è stato fondato da Mauro Rango in Veneto e poi c'è il gruppo facebook dell'avvocato Grimaldi che conta addirittura un migliaio di medici che seguono molti più pazienti quindi è una richiesta che è nata dal basso e che sta continuando a crescere su canali diversi poi c'è un altro gruppo di colleghi del Friuli Valencia Giulia che anche loro hanno una chat con cui siamo gemellati ci scambiamo informazioni organizziamo dei webinar settimanalmente di aggiornamento con personaggi importanti della scienza che ci informano sulle ultime scoperte quindi diciamo che stiamo un po' facendo tutto da soli aggiornamento confronto risoluzione dei casi ma a questo punto è gettata la spugna dal punto di vista dell'attesa di un protocollo da parte del governo cioè è tutto perso adesso si lavora ognuno per conto suo o c'è ancora la possibilità di avere un'interlocuzione con il governo da quello che non sapete voi noi speriamo che ci sia la possibilità devo dire che parlando con persone come Remuzzi e anche con Bassetti sono loro i primi a capire che questo ruolo di intercettazione precoce dei malati è esiziale in questa malattia è difficile che questa cosa venga detta sui canali mainstream venga scritta sui giornali non capisco questo motivo e questa reticenza una cosa che io non capisco non lo capiamo non lo capiamo neanch'io come sai vi diamo sempre spazio perché io ritengo che sia una cosa enorme ma io una mezza idea ce l'ho però non la dico dai dilla no come non capiamo che vogliono dare importanza agli ospedali ma va che c'è una linea una linea ospedale centrica alcuni media hanno una linea ma anche il governo anche il governo la dà la linea se anche l'ospedale fosse la soluzione bisognerebbe capire che cosa fare perché per esempio se dobbiamo parlare delle recenti terapie come gli anticorpi monoclonali ammettendo che ci siano disposizioni per larghe grandi numeri di pazienti vorrebbe dire portare in ospedale finita l'emergenza un numero ancora più grande di pazienti sintomatici da trattare con i monoclonali quindi anche questa cosa che la terapia domiciliare dovrebbe passare comunque attraverso l'ospedale è abbastanza strano adesso sono partiti degli studi su alcuni farmaci uno in particolare che è l'ivermectina un antiparassitario che non esiste nemmeno in Italia in compresse che sembra molto promettente è un farmaco veterinario è un farmaco veterinario è un farmaco veterinario esatto Paolo Cova lo usa eh sì 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 lo usiamo eh esatto su che animale su lo puoi usare vabbè viene usato anche con cani e gatti ma soprattutto nei bovini da carne ma è quello che si mette nel Cardotec sì bravissimo non bisogna far pubblicità il Cardotec è una marca il Cardotec è una marca scusate è una pastiglia che io do al mio cane e gliela do tutti i mesi infatti quando ho letto il canale ho detto me lo mangio me lo mangio come prevenzione no no nel senso ci sono molti studi all'orizzonte che stanno cercando di portare la terapia il più possibile in maniera facilitata sul territorio è partito anche a Milano uno studio multicentrico europeo che si chiama Convins che prevede la colchicina e le doxaban come anticoagulante che sono comunque farmaci che si possono somministrare per bocca a casa dei pazienti quindi ci sono delle ricerche purtroppo come sempre succede le ricerche pensate che questo studio sulla colchicina e sulle doxaban è partito come studio di protocollo più di un anno fa e abbiamo ruolato i primi due pazienti quindi ci è voluto più di un anno per metterli in campo quindi la ricerca procede con molta lentezza invece l'esperienza pratica sul campo ci dice che intercettare precocemente gli ammalati con dei farmaci di normale utilizzo nella pratica clinica potrebbe essere una strategia in attesa che la scienza ci dica qualcosa di più una strategia comunque di riduzione dell'impatto della malattia o comunque di un minor danno della malattia una volta che questa si verifica l'ultima cosa scusami perché poi devo chiuderti visto che sempre quando arriva la bella stagione è successo anche l'anno scorso che noti luminari dicono ecco la malattia è cambiata ecco sono cambiati i sintomi è diventata più leggera tu dal tuo punto di vista la noti questa cosa oppure no abbiamo meno malati ma sono anche meno malati loro scusate il gioco di parole allora io ho finito settimana scorsa di curare quattro donne tendenzialmente giovani di cui due con una polmonite abbastanza severa che abbiamo gestito a casa con l'ossigeno quindi erano malate che dovevano essere ricoverate secondo i criteri della saturazione dell'ossigeno che era sotto i 90 o vicino ai 90 adesso ho due famiglie con quattro persone completamente sintomatiche fortunatamente nessuna particolarmente grave aspettiamo di vedere l'esperimento sociale che è stato condotto per i festeggiamenti dell'Inter se avrà un esito positivo o negativo anche perché questo è stata una prova del fuoco speriamo che non comporti problemi vuoi chiedergli qualcosa Gianmarco? no ho avuto tutte le risposte del caso quando si parla del fatto di non rischiare all'interno dei protocolli mi sembra evidente è chiaro che anche io se fossi un medico ci pensi due volte generale mi è piaciuta la definizione non di cos'era di incontro ma un convegno all'aperto una conferenza all'aperto una conferenza all'aperto la utilizzeremo che è molto politico no infatti mi hai corretto no dottore dottore quando ho detto fate un raduno lui mi ha subito corretto non è un raduno è una conferenza all'aperto arriva il questore stiamo facendo la conferenza e non si fermi la medicina no no ognuno racconta le esperienze poi siamo a disposizione eventualmente per delle domande da parte del pubblico quindi è una cosa ordinata non penso ci siano scalmanati non ci sono cartelli non ci sono cose di protesta quindi dovrebbe essere un po' come lo speaker corner che c'era una volta in Inghilterra ah sì sì certo è vero ma siete vaccinati poi tra le altre cose voi noi siamo vaccinati sì ma adesso molte persone sono ormai vaccinate insomma quindi comincia a essere un numero consistente quello dei vaccinati per cui con le dovute distanze con le dovute attenzioni credo che si possa all'aria aperta dove sappiamo che in effetti mantenendo le distanze e le mascherine il contagio è molto 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 basso la temperatura sta salendo che è un fattore protettivo anche questo la giornata dovrebbe essere molto calda anche questo dovrebbe aiutare grazie grazie dottore e bocca al lupo per la vostra conferenza all'aperto come sai ti chiameremo ancora va bene grazie e buona serata buona serata a te a te allora c'è gente che scrive grazie a questi medici c'è gente che racconta situazioni proprie o di propri parenti con un tentativo di curarli a casa poi finito in un ricovero in un ospedale c'è gente che dice mi hanno curato con l'aulin sparita la febbre dopo tre giorni se becchi la forma leggera magari basterebbe anche la tachipirina tutti i racconti purtroppo mandano a referto mettono a referto quello che hanno vissuto visto che parlavamo di un farmaco veterinario ad uso umano dopo la pubblicità ci colleghiamo proprio con un veterinario per la gioia di Cova con un tuo collega anzi con una tua collega ma questa collega di Paolo Cova che è una veterinaria ci parla del covid ma non vi diciamo perché ah no no va bene a tra poco benvenuti al gruppo Fassina un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli colorazioni e motorizzazioni tutti esposti in un unico grande e moderno salone per la tua nuova auto fai la scelta giusta scegli Fassina con il sistema multimediale MBUX non vorrai più scendere classe A oggi con pacchetto tech incluso fino al 31 maggio scoprila su mercedes-benz.it per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus Passione, competenza e professionalità questo è Ruggero Moto una struttura moderna e all'avanguardia completamente dedicata alla manutenzione delle motociclette di qualsiasi marca e modello la stessa passione e la competenza unite a una cura maniacale dei dettagli sono alla base dei restauri di Ruggero Moto e dei tagliandi eseguiti con scrupolosità e utilizzando solo i migliori prodotti presenti sul mercato se ami la tua moto regalale le cure di Ruggero Moto ad Airago siamo arrivati alla telepromozione della primavera si ha voglia di rinnovare la casa ma soprattutto si ha voglia di riposare bene la parola materasso a cosa vi fa pensare al dormire al riposo materasso uguale salute materasso uguale stare meglio e la soluzione è solo una la Mondoflex noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro ci vogliono anni e anni di esperienza approfittate delle nostre promozioni al benessere non si rinuncia venite alla Mondoflex troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni venite alla Mondoflex perché il miglior risparmio è la qualità vi aspetto Vamag tecniche di collaudo presenta One Stop questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di due minuti il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo le prestazioni dei freni e delle sospensioni lo stato della batteria la diagnosi della centralina lo stato dei pneumatici e altro aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato frutto di ben 35 anni di esperienza Vamag dal 1981 European Quality Made in Italy Rieccoci qua adesso siamo come avevo annunciato siamo collegati con la dottoressa Mariangela Albertini Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Statale di Milano Buonasera professoressa Buonasera 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 Allora io ho fatto questo titolo che riassume un po' il perché di questo collegamento i cani possono fiutare il covid come funziona questa allora noi l'anno scorso ne avevamo parlato in maniera un po' sperimentale poi ho visto che voi state facendo proprio questo studio ci spieghi di che cosa si tratta allora si tratta di questo sappiamo ormai che tutte le patologie che colpiscono l'uomo creano una modificazione del metabolismo dell'individuo che si esprime con la produzione di composti organici volatili che si chiamano VOX e che sono caratteristici proprio di ogni malattia diversa e in questo caso anche il virus il SARS-CoV-2 anche lui provoca una modificazione del metabolismo che provoca appunto la produzione di questi VOX molto specifici il cane sappiamo che ha un olfatto estremamente sviluppato e quindi è in grado col suo naso di percepire questi VOX che si sprigionano diciamo dalla persona quindi sostanzialmente il cane cosa fa? annusa non tanto il virus ma proprio questi composti organici che si liberano ad esempio con il sudore per cui noi facciamo dei prelievi di sudore dalle persone e li facciamo annusare al cane e il cane riesce a distinguere le persone positive dalle persone negative abbiamo fatto un lavoro simile negli anni scorsi con il tumore al polmone e i cani si sono rivelati degli ottimi detection di tumori insomma tumori polmonari come una sorta di screening per quanto riguarda il tumore polmonare funzionano da screening i cani è corretto? anche per i caratteristiche screening professoressa ma quali cani sono più indicati per fare questo tra virgolette lavoro? cioè tipo quelli da caccia che hanno un olfatto? no, è uguale, tutti in realtà tutti i cani hanno l'olfatto estremamente sviluppato quindi questo non è un limite per loro l'olfatto l'unica cosa è che noi cerchiamo cani che abbiano voglia di collaborare con noi quindi devono essere cani tranquilli, docili che hanno voglia di collaborare per loro è un gioco per cui se hanno voglia di giocare con il loro proprietario vengono da noi si fanno quella mezz'oretta di addestramento si prendono un sacco di premi e nel frattempo scovano anche le malattie quindi non dipende quindi posso venire io col mio barboncino o Jacopo col suo border collie assolutamente sì assolutamente sì magari il border collie è un cane che riesce più a correre invece che concentrarsi in poco spazio però il barboncino ad esempio sì noi abbiamo una delle nostre più brave cagnoline è un incrocio un incrocio preso dal canile un incrocio di segugio preso dal canile però il segugio c'è posso chiedere? sì certo Sen vuole farle una domanda professoressa vai che percentuale di attendibilità perché poi dopo il riscontro è in automatico col tampone certo per forza certo noi adesso non siamo ancora alla fine della sperimentazione ma contiamo di arrivare a una sensibilità almeno del 90% e una specificità altrettanto 85-90% questo è quello che abbiamo temuto la cosa migliore visto che siamo ancora in attesa che non so se è arrivata o meno mi stanno già dicendo non ci pensare ad andarci tu con Raimondino col mio no infatti quello c'era c'era chi diceva perché? è molto intelligente il mio cagnolino quindi potrebbe farlo sì no ma dubbiamente no dicevo manca la circolare per i tamponi salivari salivari delle scuole li mandiamo in mezzo ai bambini se hanno un'attendibilità del 90% è perfetto effettivamente noi stiamo tirando proprio a quello stiamo già contattando un po' insomma vorremmo arrivare a portare proprio questi cani proprio nelle scuole ma perché no nei teatri nei cinema insomma all'ingresso in modo loro sono molto rapidi poi perché in due o tre secondi annusano una persona e quindi potrebbero fare uno screening su tante persone una dietro l'altra magari proprio all'ingresso delle scuole perché no i bambini credo che preferirebbero essere annusati da un cane piuttosto che avere un tampone anche solo in bocca o nel naso no? sicuramente è più piacevole è un metodo anche all'aeroporto no? per chi arriva chi scende da un aereo sì sì già lo stanno usando a Dubamba e anche in Pillanda lo stanno usando sì però lì usano ancora i tamponi quindi fanno passare una garza sul collo delle persone poi le mettono le portano in un'altra stanza fanno annusare le garze ai cani insomma comunque sempre un po' lungo come procedimento noi vorremmo andare direttamente sulle persone quindi accorciare ulteriormente i tempi al limite mettiamo il barboncino ad annusare e poi il rottweiler a fermare perché in realtà non è che tutti i cani sono uguali a prescindere hanno anche delle loro no vabbè dottor Cova vuole farle una domanda vai Paolo no le domande sono due uno quanto tempo prima riescono ad accorgersi con quanto anticipano la percezione che c'è la presenza del Covid rispetto a un tampone cioè dopo quanto tempo che uno è positivo no sì sì allora ci stiamo ancora lavorando per cui non possiamo essere ancora precisi su questa cosa stiamo vedendo però che tanto per cominciare il cane è sensibile sia alle persone sintomatiche che a quelle asintomatiche quindi giusto la presenza del virus anche se non ha una malattia conclamata non provoca una malattia conclamata il cane riesce a percepirla adesso non so dovremmo riuscire a stiamo raccogliendo ancora i campioni e dobbiamo vedere anche come risponde l'animale sui vaccinati piuttosto che sui guariti perché le variabili in questa patologia sono proprio tante e soprattutto non è facile capire da quanto tempo una persona si è ammalata quindi noi troviamo le persone con i tamponi positivi e le testiamo cioè le usiamo come tamponi positivi uno vaccinato lo interpreta come malato perché agli anticorpi dopo non si capisce più niente la seconda domanda Paolo no la seconda la seconda domanda era che segnale danno quando trovano un caso positivo cosa fanno si siedono adesso loro stanno lavorando in laboratorio adesso ancora e loro passano davanti ai campioni quando trovano quello positivo si siedono ed è la stessa cosa che gli stiamo insegnando a fare anche sulle persone quando loro girano intorno alle persone quando trovano quella positiva si siedono ma professoressa se lei ha qualche filmato del cane che si siede di fronte me lo mandi e ci ricolleghiamo in una delle prossime puntate lo facciamo vedere credo che sia una cosa molto interessante perché vediamo proprio il cane che becca il positivo e si siede Gianmarco un'altra cosa quanto tempo ci vuole per formare per istruire un cane a riconoscere e questo siccome i cani sono tutti uguali dipende ci sono cani già cani già addestrati ad esempio quelli nostri che già lavoravano anche sui tumori contiamo un mesetto insomma di riuscire ad addestrarli quelli invece che devono proprio partire da zero adesso stiamo facendo arruolando dei nuovi cani li stiamo facendo partire da zero per cui chiaramente ci vorranno tre mesi insomma per arrivare a formarli in modo sicuro ma possiamo fare un appello che se c'è qualche proprietario di cane che vuole offrirsi può scrivervi telefonarci ringrazio l'abbiamo già fatto e stanno già arrivando in tanti per cui per il momento mi fermerei qui magari fra un po' fermiamoci qua ok non esageriamo poi ci sono i cani che portano cioè i padroni che portano il cane dall'addestratore l'addestratore riconosce il cane che ha uno sviluppato come dire non olfatto perché quello ce l'hanno tutti ma una propensione a fare quello tipo il mio addestratore che addestra la mia cagnolina ha un Weimaraner che potrebbe fare la prima linea in unità cinofila se avesse tempo e modo secondo me se glielo porta ci mette dieci minuti e abbiamo trovato uno poi invece ci sono quelli più tonti esatto ma non è solo questione di tonti io avevo una cagnolona bellissima che era bravissima ad annusare e lei le prime tre quattro volte seguiva la traccia proprio annusava tutto perfettamente ma dopo tre quattro volte mi ha detto senti ma io mi sono anche un po' stufata di fare questo lavoro per cui lei si annoiava a fare sempre la stessa cosa per cui dopo un po' ha smesso basta non ha più voluto ma perché sono troppo intelligenti eh sì ma si divertono anche va bene grazie professoressa allora se poi lei mi manda qualche filmato ci ricolleghiamo e lo facciamo vedere ok? ok la ringrazio grazie arrivederci arrivederci grazie buona sera interessante no? assolutamente assolutamente interessante allora adesso io congederei la mia si siede anche lei quando vede qualcuno quando vede uno positivo no non positivo al momento non gliel'abbiamo insegnato però se pensa che sia interessante il personaggio tipo che c'ha in tasca da mangiare un premio si siede non è che lo aggredisce si siede lì davanti no il mio fa così va bene di solito i carni assomigliano i padroni e anche io mi siedo va bene quando pensi che c'è da mangiare ti siedi va bene in effetti non si mangia in piedi e si mangia seduti così potrebbe fare tutto uno studio va bene grazie Paolo Cove grazie Gianmarco Senna grazie a voi buona serata adesso noi ci fermiamo ma inizia la parte dedicata ai quartieri quartieri e anche ai nostri reporter sì perché la nostra iniziativa che forse voi due non lo sapete ma noi diamo la possibilità a chi ci guarda di diventare dei veri e propri reporter telenova eccolo qua mandandoci un video al 3662131894 se ci sono cose belle o brutte luci o ombre del vostro quartiere scriveteci e noi ne parleremo qui no mandateci il video non scriveteci scusami mandateci il video e lo manderemo in onda esatto poi se è una cosa epocale vediamo anche a trovare lui e l'operatore vanno pubblicità grazie Cove Senna grazie da estetica alla creta trovate un'alta competenza nella manicure classica smalto semi permanente ricostruzione unghie pedicure estetico e curativo epilazione con cera rosa al titanio ed epilazione definitiva laser di ultima generazione novità molto richiesta è la laminazione ciglia un trattamento naturale per dire addio al mascara offriamo trattamenti personalizzati viso e corpo utilizzando prodotti cosmetici il meglio del settore estetica alla creta vent'anni di esperienza al vostro servizio benvenuti al gruppo Fassina un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli colorazioni e motorizzazioni tutti esposti in un unico grande e moderno salone per la tua nuova auto fai la scelta giusta scegli Fassina benvenuti da Messa da sempre riferimento del marchio Renault e Dacia per Monza e Brianza da noi troverai auto nuove usate aziendali chilometro zero inoltre offriamo assistenza e magazzino ricambi ti aspettiamo anche per un test drive in massima sicurezza le nostre concessionarie sono sempre aperte viviamo in un mondo dove ognuno vuole far sentire la propria voce c'è chi dice di non andare troppo lontano chi dice che non si può avere tutto ognuno è sicuro di sapere cosa sia meglio ma alla fine c'è una sola voce che conta la tua gamma SUV Mercedes-Benz scopri anche le versioni full electriche plug-in hybrid per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus siamo arrivati alla telepromozione della primavera si ha voglia di rinnovare la casa ma soprattutto si ha voglia di riposare bene la parola materasso a cosa vi fa pensare al dormire al riposo materasso uguale salute materasso uguale stare meglio e la soluzione è solo una la Mondo Flex noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro ci vogliono anni e anni di esperienza approfittate approfittate delle nostre promozioni al benessere non si rinuncia venite alla Mondo Flex troverete le novità a prezzo di lancio e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sulle promozioni venite alla Mondo Flex perché il miglior risparmio è la qualità vi aspetto per la vostra pubblicità su Telenova potete scrivere all'indirizzo paolo.bobbiese chiocciolatelenova.it oppure telefonate allo 02 87 16 56 21 16 57 21 21 21 28 29